bene raga adesso siamo di nuovo su craft duty black ops 3 e questa volta vi farò vedere shite il robot e come avevo promesso l'ho travestito da robot inciampato se non lo ricordate guardatevi lo scorso video era verde il robot inciampato quindi l'ho travestito robot inciampato vabbè e adesso andremo a fare una partita normale questa volta durerà soltanto 7 minuti però mi dispiace per voi spero che le prossime possano durare 10 minuti cioè dipende mi sa che durerà anche di vero se c'è qualche parte alla fine che taglio è semplicemente che non serviva era inutile per voi se raggiungiamo i tre like vi porterò un gameplay sulla storia se invece raggiungiamo due vi farò vedere un gameplay cioè più che altro farò vedere in un video tutte le le mie classi anche se dovreste averle viste sono questa guida a capo questa casa è pesante questo è quello del svg maggior del vesper e del fucile a pompa del k rm si adesso andiamo e ci buttiamo una mischia e facciamo gli a capo adesso guardate no a capo non c'è nessuno il video la parte dc devo inciampare perchè ho un robot inciampato quindi devo inciampare devo inciampare e inciampato anche lui il guerriere mi sobra che si è spettato la gamba si è respetto va bene vabbè lo so parlare dell'italiano cazzo spara oh ragazzo oh ragazzo boh ho colpito proprio lì lo colpito si è basso almeno credo ma ciò semplice vado per controllare si è vasto si è vasto ma il locus mi sta sparando quel fucile fa cagare a parte della modellità storia contro il robot cazzo cazzo 50 vai il problema è che quando io gioco da solo quando io gioco da solo sono pro player della bandana vieni 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 sono inciampato eeeh il robot inciampato con fearmed ma vaffanculo no l'avete visto oh l'avete visto oh che cazzo c'è oh che cazzo c'è è una granata è una granata ma cazzo tanto quanto eri pericoloso eh eh sembra vedere la sua abilità questa è la sua abilità i miei rubori inventati scusate se sto un po' zitto però ho concentrato proprio nei pro player come faccio il genere nella modalità da sol, cioè senza registrare così ve lo faccio vedere ok sono ricciapato aspetta vediamo la morte boh sono scivolato via più che altro vai alla uova boh 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 ho sparato un colpo aiuto alla fine del mondo per acqua mi sembra più nemico che cazzo spari? che cazzo spari? abbiamo capito rega l'ho ucciso no, non l'ho ucciso sacchi di merda mi distruggo ma siete gli stanchi di merda che non mi cagate neanche dai dai sta scappando il migliacco grazie a me ci siamo al doppio vai iiii 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 cos l'avete visto anche voi e anzitutto è imparata forse gli è anche piaciuto un pere buono dei due oh merda mi hanno circondato mi hanno circondato perchè altro io li ho trovati sono nella loro area si perchè ogni tanto nelle partite ci sono le aree dei black ops e le aree dei coglioni si perchè non sono più cdp li hanno chiamati coglioni no stai scherzando mcmahon oddio non lo dovevo nominare aaaaaah vabbè raga adesso il video è finito vi ricordo di lasciare un like commentate condividete e al prossimo video raga